Musica Amici di Dilettantissimo, un cordiale buon pomeriggio dal Ferruccio Chitolina di Vado Ligure dopo il primo stop stagionale i ragazzi di Stefano Fresia cercano l'immediato riscatto nel derby contro la Coriacea Cairese di Enrico Vella Matteo Rossi che si incrocia con Soragna, si può involare qua Gianluca Soragna mette il pallone dentro dall'altra parte Capra cerca di liberarsi nell'area di ricorre, raso a terra si allunga Binello Capra insiste per il Vado, il tocco verso Molinari riesce a mettere il pallone dentro Soragna Rossi, qua Binello con i piedi, due volte straordinario Gianluca Binello cerca di incunearsi Fabris col destro, pallone dentro, colpo di testa cercato da Soragna che vuole anche una spinta da un'occhiata al direttore di gara è stato indubbiamente sbilanciato Soragna battuta di Rossi molto profonda cercare Capra, arriva anche Rossi in area di rigore carica la conclusione il diagonale di Matteo Rossi arriva anche il duplice fischio si va negli espogliatoi inizia la ripresa Pagliero mette il pallone dentro, Soragna verso Capra al limite si libera di un avversario Capra si libera di un avversario Edo Capra in seguito da Fagion, entra dentro l'area di rigore Capra ha seminato tutti, pallone dentro, l'uscita di Binello che la tiene lì il tocco verso Rossi la percussione di battaglia che si presenta solo davanti al portiere la conclusione in diagonale il pallone verso Fabris che va a mettere la pennellata dentro per la testa di Soragna poi Rossi e il pallone è finito dentro eccolo qua il vantaggio di Matteo Rossi a forza di insistere la formazione di Fresia ha trovato il vantaggio Soragna contro Barone il duello tra i due resiste Soragna una bella girata troppo centrale però si allunga il pallone Recagno poi commette un brutto fallo qua Recagno cartellino rosso meritatissimo di Recagno Ertulesi attenzione al contropiede battaglia si invola tutto solo Binello deve ancora rientrare in porta ancora battaglia la conclusione la parata di Binello vittoria sofferta ma meritata del vado contro la Caerese la formazione di Fresia vince grazie a un acuto di Matteo Rossi